Le stime non ancora ufficiali parlano di circa 12.000 persone che nell'arco della manifestazione hanno seguito gli spettacoli nel cartellone dell'indicesima edizione di Jazz in Campo. Sei serate, di cui due a San Giovanni in Galdo e quattro a Campo di Pietra, il luogo dove la rassegna è nata, dove nel corso del tempo ha concretizzato la sua evoluzione, coniugando musica, sapore e territorio, fino a diventare una affermata realtà. Nell'ultima serata del festival, sul palco Roberto Gatto alla batteria, Alfonso Santimone al piano e Gabriele Evangelista al basso. A seguire e a concludere questa edizione, un mostro sacro della batteria come Peter Erskine, accompagnato da Lars Dennerson al basso e Rita Marco Tulli al piano. Al termine della serata, evidente la soddisfazione degli organizzatori, in testa il vicesindaco Gianluca Cefaratti e del direttore artistico Simone Sala. Abbiamo messo su un programma difficile, abbiamo fatto delle nuove aperture rispetto a Jazz in Campo, l'ingresso di San Giovanni in Galdo, nuova direzione artistica, però siamo pienamente soddisfatti. Davvero un'altra sfida vinta, credo che abbiamo dimostrato il meglio di noi stessi in questa edizione. Certo abbiamo fatto molta fatica, continuiamo a fare fatica, però siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti ad offrire al pubblico mulisano e non solo mulisano, perché con orgoglio davvero mai come in questa edizione abbiamo avuto pubblico tanto da fuori regione che ha apprezzato la proposta artistica, ha apprezzato i nostri sapori e ha apprezzato il nostro territorio. Quindi credo che abbiamo davvero colpito il segno e mai come questa volta credo che possiamo essere soddisfatti non solo come amministratori di Campo di Vira, ma come amministratori mulisani e di gente che ci tiene al proprio territorio. C'è ancora l'adrenalina di questa undicesima edizione e anche la soddisfazione di aver fatto un grande festival, veramente non perché faccio parte di questo staff incredibile, ma la gente ci è venuta a ringraziare, gente di tutti i tipi, dai bambini, ai grandi, alle signore, alla gente che veniva da 100 km a quella che vive qui a fianco al palco. Per noi è stata una grande soddisfazione, stiamo già pensando al futuro, a quello che si potrebbe fare perché è stato un grande incoraggiamento per noi. I sei serate, io credo che abbiamo avuto una partecipazione che supera sicuramente le 10.000 unità, io credo che andiamo verso i 13-14 e per i numeri del Molise questi sono grandissimi numeri.